Noi abbiamo qua un prezzo dei Mattia Basar che si intitola Vacanze Romani, lo conosciamo? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Se sei ieri con me, oggi prigione tu, prigione erai io, Roma Antica Città. Quando vuoi liberare la voce tua, la Roma Antica Città, la voce tua a testa. Come Antica Città, una vecchia realtà, non ti accorgi di me, e non sai che pena, che pena mi dai. Una cosa che vi chiedo, in questo pezzo, soprattutto nella seconda parte, voi sentite che quando tu la puoi a cappella c'è la necessità di tagliare il tempo, perché uno fa... Piove il cielo sulla città, su luco deve ripesta, moro e l'angelo e il prese sarà... Quindi, a te, oltre. No, 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 no. Io chiedo proprio a voi, perché io il fatto di tagliare, siccome è abbastanza opinabile, e soprattutto non rispetta la parte musicale e lo fai casualmente, cioè non hai un taglio preciso, io preferirei il tempo, perché non devi avere, non dobbiamo avere errore del silenzio. Avete capito? Avete capito? La musica si regge sul silenzio. Se non ci fosse il silenzio, non ci sarebbe la musica. Le pause sono la vita della musica. Qui. Ah, va bene. Ma... ma... Piove in cielo sulla città... Tu, con il cuore nel banco, l'oro e l'argento le sale da te, un paese che non ha più campanelli. Molto bene, vai. Ma dolce vita che te ne vai sulle terrazze del corso, un certo di viole montanità.